Le prime 10 su oltre 100 bozzetti sono un volume di strumenti contro la violenza, di storie drammatiche ma anche di grande voglia di riscatto e colpisce tutte storie che parlano di violenza domestica. È un segnale che conferma una grande maturità e anche però stimola ora a intervenire ancora di più per rompere il silenzio e difendere le persone. Grazie.